Caffi Blitz Svizzera. Il online shop numero 1 per capsule di caffè. Capsule o cialde. Questa è la tipica domanda di chi per la prima volta si affaccia a questo mercato. La differenza tra queste due tipologie è semplice ma sostanziale. La cialda di caffè è composta da un filtro di carta contenente caffè macinato mentre la capsula si contraddistingue come un contenitore rigido ed è adatta a specifiche macchine funzionanti con sistemi appositamente creati. Appartengono alla seconda tipologia le capsule e caffè borbone compatibili, in questo speciale caso le borbone Don Carlo. www.coffeeblitz.shop The best online shop in Switzerland to order your borbone coffee capsules for less. www.coffeeblitz.shop Subscribe today and order your best Nespresso compatible capsules from www.coffeeblitz.shop www.coffeeblitz.com www.coffeeblitz.sk